Ok, faccio questa domanda sui contratti e sull'indice IPCA. Dal 2009, con l'accordo quadro di riforma degli assetti contrattuali, l'adeguamento degli stipendi all'inflazione avviene attraverso l'indice IPCA, Indice dei prezzi al consumo armonizzato, al netto degli energetici importati. Poiché l'attuale impennata dell'inflazione è per lo più attribuibile ai prodotti energetici, ed essi sono ancora in gran parte importati, si viene a creare, forse per la prima volta da quando è stato introdotto questo meccanismo, che ha sostituito il tasso di inflazione programmata, il TIP e ancora prima la scala mobile, un gap significativo tra l'inflazione to cure e l'indicatore utilizzato per la rivalutazione degli stipendi. Da quanto sta emergendo sembrerebbe esistere una differenza sostanziale tra il prezzo pagato all'importazione, soprattutto per il gas, e quello applicato all'utente finale, tanto che il legislatore ha pensato di tassare gli extra profitti sotto forma di contributo straordinario. Vorremmo capire se l'Istat, nella diffusione a breve delle nuove stime dell'IPCA, al netto degli energetici importati, terrà in considerazione questa situazione e se sta riconsiderando la metodologia di calcolo. Vorremmo altresì conoscere se le cause che hanno portato a sottostimare il valore dell'import del gas naturale nel secondo semestre 2021 sono state pienamente individuate e rimosse, quindi se ci può rassicurare sul fatto che quel tipo di errore non si potrà più ripetere in futuro. Sull'indice IPCA sarebbe utile, con la diffusione di nuovi dati, se ci sarà anche una nota metodologica. Grazie. Ovviamente c'è stata questa necessità di rivedere i dati. L'errore è un problema legato a una procedura semiautomatica che corregge outlier, quindi abbiamo dovuto intervenire su questa procedura e poi in realtà il tempo che ci è voluto è legato anche a far girare tutte le procedure del commercio estero, che sono un po' complesse perché quando si parla di commercio estero si parla di migliaia e migliaia e migliaia di beni che ognuno ha la sua classificazione e centinaia e centinaia di paesi ogni mese per tante poi ulteriori anche classificazioni, quindi questa cosa informaticamente ci mette un po'. Ovviamente è tutto stato sistemato e il problema era un problema di valore delle importazioni, insomma una sottostima del valore delle importazioni. Come ricordava lei, l'IPCA nasce nel 2009 per un accordo tra le parti sociali. Noi abbiamo, la metodologia era inizialmente stata sviluppata all'ISAE e poi è stata ereditata in ISTAT quando l'ISAE è entrato in ISTAT. Già diverse associazioni di categoria ci hanno chiamato per capire quale sarà il dato che, se ci sarà una revisione della metodologia. Il tema lo stiamo affrontando internamente e stiamo valutando se cambiare la metodologia e quanta della metodologia è in parte integrata con il nostro modello macroeconomico che è quello sulla base del quale il Presidente ha presentato le simulazioni di impatto. Da valutare i cambiamenti che faremo, quindi da qui al mese di maggio, l'uscita è i primi di giugno insieme all'aggiornamento delle previsioni per il 2022 e per il 2023. Valuteremo insieme al Presidente e alla comunicazione se nel caso di modificazioni sostanziali nella metodologia quale sarà lo strumento migliore per la comunicazione di quello che stiamo facendo. Perché come sottolineava lei, l'impatto non è banale. Ci troviamo in una di quelle situazioni storicamente particolari in cui quello che viene fuori dal calcolo non impatta significativamente sulla contrattazione. Quindi sì, faremo del nostro meglio per rivedere la metodologia e per documentarla e per comunicarla nel miglior modo possibile.